Quando arrivò a Viale Trastevere il ministro Patrizio Bianchi venne accolto con un certo favore dal mondo della scuola. Le stesse organizzazioni sindacali si affrettarono subito ad evidenziare che con Bianchi si stavano costruendo rapporti ben diversi rispetto a quelli avuti fino a quel momento con Lucia Zolina. Praticamente tutti dissero che finalmente era arrivato un ministro che li ascoltava. La luna di miele è durata però più o meno fino alla metà di marzo quando cioè Patrizio Bianchi e sindacati si incontrarono per decidere di dare avvio ad un confronto politico ad ampio raggio che consentisse di declinare nella scuola il patto per il lavoro pubblico sottoscritto già dal ministro Brunetta con le principali confederazioni sindacali. A poco più di due mesi di distanza la situazione è completamente cambiata tanto che mercoledì 9 giugno i sindacati della scuola scenderanno in piazza per protestare per manifestare. A Patrizio Bianchi viene mossa un'accusa ben precisa e cioè di aver firmato con i sindacati un patto per la scuola che contiene promesse che risultano palesemente smentite dagli atti formali del governo. In particolare la protesta riguarda i contenuti del decreto legge 73, il cosiddetto sostegni bis che andrebbe in direzione opposta e contraria agli accordi presi. Secondo i sindacati infatti l'intesa firmata qualche settimana fa prevede la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili a partire da settembre, obiettivo che sarà però impossibile raggiungere per il semplice motivo che i precari chiamati in causa nel decreto sono numericamente insufficienti. In realtà se si presta attenzione a tutti gli elementi della vicenda emerge un dato importante. Il malcontento dei sindacati è rivolto nei confronti non tanto del ministro quanto piuttosto del governo stesso, tanto che la manifestazione del 9 giugno non è di fronte alla sede del ministero ma di fronte alla camera. Il segnale è chiaro, i sindacati chiedono al Parlamento di correggere le decisioni del governo stesso. Ma le critiche arrivano anche da pezzi della stessa maggioranza, in particolare dal senatore della Lega Mario Pittoni che continua a ripetere che se davvero a settembre si vogliono avere le cattedre coperte bisogna assolutamente assumere anche dalla seconda fascia delle gps e assumere tutti i precari di prima fascia anche se non hanno il requisito dei tre anni di servizio. Per i sindacati comunque i nodi sono anche altri e tutti di carattere politico a partire dalla necessità di aprire al più presto le trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Trattative che si preannunciano difficili in quanto per il momento le risorse a disposizione consentono aumenti decisamente modesti, ampiamente al di sotto delle famose tre cifre che forse con troppa faciloneria erano state garantite da Conte e da Bussetti con una intesa siglata addirittura nell'aprile del 2019, cioè due anni fa. Su tutto questo noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri documenti, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.